Scusi, è lei la portinaia? Sì Esposito Vincenzo, abita qui? Primo piano, interno 5 Buongiorno Brigadino Trasì, prego Esposito Vincenzo, è il mio papà Io sono primo genito Oria sussan l'aşka ovo Purtroppo, devo darvi una notizia Esposito Vincenzo, buca pesta famiglia È stato assassinato un'ora fa Purtroppo, devo darvi una notizia 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 Purtroppo, devo darvi una notizia